ciao buonasera a tutti un attimo che abbasso i pink floyd mi stavo guardando un video dei pink floyd allora presentiamo ripresentiamo abbiamo già parzialmente presentato ma adesso lo presentiamo un po più seriamente e più professionalmente violet pro violet professionale perché perché violet pro è fatto studiato su idea conferita ci da signori tipo professionisti giornalisti tecnici eccetera che dicevano a me un van non interessano tanto i due posti la panchetta posteriore perché tanto vado in giro in uno in due al massimo in tre e alla fiera di bologna la settimana prossima lo vedremo con la panchetta girevole per cui tre posti viaggio questa macchina e con questa scrivania vieni un attimino da questa parte così vediamo un attimino anche i pink floyd che sono sempre una bella cosa live allora qui abbiamo il nostro laptop per fare quel che ci serve abbiamo uno schermo io qua adesso ho messo i pink floyd ma perché mi piacciono ma questo può essere uno schermo ripetitivo aggiuntivo del vostro computer chi fa questo lavoro e non ha bisogno di lezioni da me sicuramente e e avanti questo diventa uno studio diventa uno studio dove qui dietro qui dentro abbiamo anche la possibilità di mettere una stampante o tutto quel che si vuole i cassetti qui davanti per le varie cose da ufficio capito bo chiaramente dietro col letto sollevabile può esserci un altro posto di lavoro come vi ricordate per cui diciamo che questa diventa tranquillamente una macchina che può essere usata per lavoro oltre che per andare a spasso si combinano molto bene le due cose e teniamo presente che l'omologazione autoveicolo uso speciale per cui è salvo approvazione del vostro commercialista inseribile come si dice nella gestione della contabilità della vostra azienda se avete un'azienda altrimenti privati e basta cosa succede andiamo avanti e diamo avanti con altre cose funziona bene allora ripetiamo cose che già sentiamo di baiole abbiamo il frigo da 86 litri a compressore qui davanti il riscaldamento diesel qui sotto bevasto il 110 litri di acqua qui sotto di acqua fresca un boiler da 20 litri in autico che funziona con l'acqua del motore per cui dopo un quarto d'ora di motore si ha l'acqua a 70 gradi eccetera eccetera ok ovviamente per fare questo utilizzo di violet abbiamo messo una batteria al litio minimo una batteria al litio da 150 ampere un inverter da 2000 watt a richiesta tranquillamente pannelli fotovoltaici a volontà e va bene andiamo avanti con il bagno bagno impermeabile senza tendina per cui da farci una bella doccia tranquillamente usare il dc quel che serve con la finestra laterale perché ovviamente possiamo sempre avere anche il tetto a soffietto bene da questa parte non stiamo a farlo vedere adesso ma c'è un armadio da metterci i vestiti le giacche e tutto quanto per per quando bisogna avere un essere vestiti in certa maniera adesso andiamo a vedere l'altra cosa fondamentale di violet sempre due e dico due siamo stati dall'amico vincenzo qua dell'emporio del ciclo e ci siamo fatti prestare due biciclette elettriche abbiamo tolto le ruote davanti perché queste erano enormi due metri e mezzo di un tir per portarle in giro intere qui abbiamo 195 centimetri di spazio da una parte all'altra qui abbiamo tolto semplicemente le ruote davanti che andremo poi a fissare dove vogliamo e abbiamo lo spazio per due biciclette elettriche lì così nel frattempo mentre vengono mentre stanno qui a riposare che non vanno in giro possono essere caricate perché lì c'è la presa 230 volt che prende chiaramente l'energia elettrica dall'inverter e possono essere tranquillamente caricate e caricate le batterie e via che vada il letto vedete che già così è in una posizione assolutamente civile può essere sollevato fino in cima completamente per sotto qui avere una stanza armadio una stanza armadio uno spogliatoio un magazzino un quel che volete perché ci sarà di tutto attenzione violet ha sempre la ruota di scorta perché il serbatorio dell'acqua non è sotto ma è lì davanti sotto in questo caso sotto il mobile se ci fossero i sedili passeggeri sarebbe sotto i sedili passeggeri isolamento termico top come sempre tutto isolato vedete che tu le porte qui le porte comprese quella laterale sono completamente isolate sia dentro con arma flex che qui fuori con un pannello integrale che va a toccare queste guarnizioni le finestrine qui se le vediamo quelle finestrine laterali di servono per chi avesse una bicicletta lunga 195 la può infilare tranquillamente senza smontarla da lì all'altra parte basta io penserei che abbiamo fatto una spiegazione abbastanza completa detto questo noi vi lasciamo vi lasciamo con dicendo che vedremo queste cose anche alla fiera di bologna la settimana prossima 24 25 26 di febbraio 2023 autoroen.it www.autoroen.it il sito anche così quando comunico cose scrivo e dico cose o informo su novità che mettiamo in pista perché questa non è l'ultima e ce n'è ancora per il 2023 di novità telefono 3 40 7 18 39 88 buon camper tutti i giorni a tutti quanti buon vai o da fondo da giuliano dell'autoroen e da fabrizia qui con me dal lavatoio di fondo vedete che questo è per i vendite ma sei sempre qui che fai i video ma questo qui che questo questa quartiere che noi chiamiamo gioalacca giù all'acqua è in effetti il quartiere della mia infanzia per cui l'autoroen è di sopra vedete lì l'altro è quella lassù per cui sono a 200 metri da piccolo scendevo per i prati ed ero sempre qui a giocare con i miei amici belle ricordi è passato un po di tempo ciao grazie a tutti quanti buon violet buon camper tutti i giorni a tutti quanti ciao ciao